Fa così caldo! Mi tolgo la maglietta! Ups! Sono bloccata! Ho ancora i miei capelli! Cosa faccio adesso? Dai, capelli! Ancora un po'! Oh no! Un'altra spazzola ci ha lasciati! Oh, un gatto! Ehi, micio micio micio! Vieni, tesoro! Stai andando benissimo! Eri una parrucchiera nella tua vita precedente, te lo assicuro! Sei un tesoro! Ferma l'ascensore! Grazie! Fa caldo qui dentro! Oh! Ehi, c'è gente qui in piedi! Ci sono troppi capelli nell'ascensore! Ups! Imbarazzante! Bene, i miei capelli sono puliti e molto bagnati! Li asciugherò con un asciugamano! Fatto! E non ho più bisogno del phon! Wow, Polly! Ciao, Jenna! È così gentile da parte tua! Ora puoi andare! Grazie per avermi preparato un bagno! Un bagno? Di cosa stai parlando? Ora aggiungo la schiuma! Oh, me ne vado! Jenna è di nuovo in ritardo! Fiori! Me ne stavo dimenticando! Questi andranno benissimo! Ciao, sono per me! Grazie! Oh, ecco un vaso! Perfetto! I tuoi capelli sono così belli! Giù le mani! Ma sono belli! Non riesco a tenere le mani a posto! Oh, stupendo! Che stai facendo? Cos'è questo? Ops! È tutta la mattina che Jenna si fa i capelli! Se solo il suo ragazzo sapesse quanti prodotti per lo styling ha nei capelli, non gli toccherebbe! Amo questa canzone! Alziamo il volume! Sì, sì, sì! Il robot aspira polvere a vicino! Ah, i miei capelli! Aiuto! Ah, interessante! È un modo creativo di arricciare i capelli! Di cosa ho bisogno? Hmm, c'erano dei fazzoletti qui da qualche parte! Proverò! Allora, vediamo il risultato! Non sono venuti! Vabbè, almeno posso pulire lo schermo! Oggi è alle 5? Per me va bene! Ci vediamo! Mi ha chiesto di uscire! Evviva! Devo essere super bella! Proprio come Nicki Minaj! Ho una parrucca fantastica! Solo che non è molto facile da mettere! Questi capelli sono troppo soffici! Ma non mi arrendo! Fatto! Piccola, sei bellissima! Ciao, tesoro! Ti piace il mio nuovo stile? Ehm, ne sei certa? Mi ci abituerò! Wow! Sembra molto semplice! È proprio quello di cui ho bisogno! Yes! Mi arriccio i capelli con i calzini! Ciao, riccioli! No! Sono tutti bugiardi! I miei capelli sono puliti! Posso iniziare ad acconciarli! Inizierò con il phon! E poi... Una spazzolata! E naturalmente devo acconciare la frangia! Ora sono pronta! Posso andare a dormire! Mi sveglierò con un'acconciatura perfetta! È già mattina! Cosa? La mia frangia! È terribile! Perché? Ragazzi, mettete le scatole qui! Prendi! Uno è caduto! Ehi! Ehi, amico! Dacci una mano! Cosa? Di nuovo scambiata per un ragazzo! È tutta colpa dei miei capelli corti! Sì, su questo hai ragione! Ma comunque... Sangue! 9-1-1! Venite subito! Ragazze, cos'è questo rumore? Vi piace il mio nuovo colore? Non è fantastico? Penny, sei seria? È un po' inaspettato! La sua carta d'identità! Così va meglio? Oh sì, grazie! Entri! Salve! Sono qui per l'imbarco! Occhiali! Allora? No, non assomiglia a questa foto! E adesso? Oh, sei tu! Puoi andare! A proposito, nessuno riconosce me in questa foto! Sono in ritardo! Sì, è lui! Pronto? Un appuntamento? Ma certo! Ci vediamo! Devo controllare il calendario del lavaggio capelli! Oh no! Mi lavo i capelli domani! Mi dispiace! L'appuntamento è cancellato! Oh, che sfortuna! Penny, guarda un po'! I miei capelli sembrano quelli di Ariana Grande! Wow, è fantastico! Anch'io voglio quell'acconciatura! Allora? È simile? Ehm... Sì! Non super simile, però! Cosa stai guardando? Ai! I miei capelli! Ai! I capelli! Ops, scusa! Che fame! Oh no! Mi sono impigliato nei capelli! Cosa faccio? Si sta svegliando! Ah, i miei capelli! Ancora! Non volevo! Basta così, ne ho abbastanza! Tesoro, ti piace il mio cappello? Wow, sei bellissima! E i tuoi capelli non si metteranno più in mezzo! Polly, è stato il miglior appuntamento della mia vita! Ti devo raccontare tutto! Sì, ok, ma posso mangiare? Eww! Ci sono dei capelli nel tuo hamburger! Cosa? Questi? Tutto ok, sono i miei! Ci sono abituata! Basta ignorarli! Che schifo! Dov'è il mio tè? Eww! I tuoi capelli sono arrivati anche a me! Come faccio ad asciugarmi i capelli? Questo asciugamano mi aiuterà! I capelli bagnati sono così pesanti! Speriamo che questo asciugamano gigante non cada! Ecco fatto! Sono così nervosa! Sta davvero per baciarmi in questo momento! Polly! Sì? I tuoi capelli! Oh no! Queste stupide extension hanno rovinato tutto! Ti è piaciuto il nostro video? Scrivi qui sotto quali situazioni divertenti di capelli ti sono capitate! E metti un like al video! Iscriviti al canale e clicca sulla campanella! Per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom!